ecco, ora abbiamo fatto parte di quella giusta allora, aggiorniamo perché avevo fatto parte scritto GTA, non mi sembra il caso ok vediamo l'audio se c'è prova 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 prova, vado un secondo, vediamo se va tutto bene ah bah 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 aspettate un attimo, mi serve il risponso se sta andando tutto bene prima allora intanto qui eh, devo vedere se l'audio va ah bah bah, se l'audio dovrebbe andare, dai non capisco perché questo telefono però non riesce a partire dobbiamo riaprire ma vabbè raga, intanto stasera siamo qui per parlare di dates, eh ora arriviamo per le, eh, parliamo di regolamenti fatti, modifiche, tutto ciò che è stato fatto nel server ringraziamo il nuovo follower, grazie mille aspetta, intanto se mi sentite scrivete un attimo raga, perché ancora non riesco a sentire il mio audio ok, perfetto, perfetto, vai, perfetto dai, qui è tutto a posto, ora si inizia allora ok, togliamo questo perfetto, ok vabbè, non mi dite perché viene scritto Frank Maio è live su Roma, raga non mi dite perché questa roba viene scritta stranissimo dovrebbe dire Dezi, però vabbè pace, verrà corretto poi allora, la live comunque si è aggiornata dovrebbe essere su Dezi, giusto? Me lo confermate? buonasera Satsu, Satsu, buonasera raga, scusate, però finora, fino a 5 minuti fa stavo sparando su Dezi quindi è normale che ora la live l'ho partita così veloce senza stare a sistemare tutto come il mio solito allora, volevo togliere soltanto vabbè, la sfocatura la lasciamo, che se ne frega dai lasciamo la sfocatura ok, si dovrebbe vedere tutto a modino ecco, schermo intero vabbè, poi se stiamo così si vede anche la parte di Discord allora, cosa succede stasera? Parliamo un po' di regolamento sì, vedo Dezi ok, perfetto, bella Satsu è andato Satsu ragazzi, eccolo qua è un soldato, eccolo qua soldato, Discord Satsu è il Discord, quando si entra qui c'è la lista dei membri per entrare nella, una volta che siete dentro la whitelist apparirete qua lista dei membri, ci sarà il vostro Discord il vostro PSN il rango che coprite in questo momento il vostro status lui è già soldato regolarmente le persone le conosco prima di prenderle a lavorare con me come soldato e tutto però lui già lo conosco lo porto da GTRP e con me e quindi me lo porto subito qua 500 chiodi questi 500 chiodi sono i soldi iniziali per giocare nel mio server avete visto un po' come su GTRP che funziona che la gente c'è i soldi iniziali ok, qui la solita cosa che vi serviranno quelli li serviranno soprattutto perché ogni morte se volete rispondare immediatamente ne parleremo stasera allora stasera siamo qui come vedete siamo io e Ettore in questa stanza ora Ettore è mutato e sta mangiando è un attimo qua chiunque ha qualcosa da dire del server si può mettere in attesa live entra qui dentro scendo io di sotto tengo mutati gli altri che entrano e parliamo direttamente con la persona poi finito con uno passiamo a parlare con gli altri direttamente così ok così funzionerà stasera quindi si parlerà con tutti allora ragazzi intanto Info Server abbiamo visto c'è già il nome del server le modifiche fatte tutti i video che sono usciti ho parlato tanto ho lavorato tanto ho fatto tante cose ragazzi vi posso soltanto dire che esattamente ora ho dato l'ultima occhiata al server un test veloce domani me ne rifaccio l'altro per sicurezza ma è tutto perfettamente in linea tutto perfettamente preciso ho trascurato anche un po' led in questi giorni vero Chris dai fa ho trascurato anche un po' led ragazzi però ho fatto un lavorone vi posso dire che abbiamo portato avanti ho fatto veramente un bel lavoro ok qui ci sono state modificate alcune regole vedete qui abbiamo inserito una regola nuova aspetta nel regolamento potete vedere che abbiamo aggiunto una regola per il dimersi una volta scaduto no non questa questa in caso di morte la gente si lamentava sul fatto che oh Frank ma se io muoio devo riaspettare lunedì io ti dico sì perché è bello muori martedì ma rientra lunedì muori martedì e te fino a lunedì non puoi più giocare però è è venuto a dirmi un po' di persone mi hanno detto Frank questo è l'unica cosa su cui si sono lamentate su tutta la roba che abbiamo creato del server queste si sono lamentate su questo fatto qua e allora ci ho un attimo ripensato poi ho detto no Ettore io non voglio che la gente muore e rientra subito immediatamente voglio dargli la cagarella quando gioca nel server lui mi ha detto guarda ci sono anche dei ragazzi nuovi devi capire che alcuni sono nuovi devono capire come funziona tutto allora abbiamo inserito una postilla qua che noi regaliamo 500 chiodi vedete in caso di morte il prigioniere non si potrà riaccedere fino a lunedì ok? giorno dedicato alla redenzione in alternativa potrete utilizzare chiodi presenti nel vostro conto per una respawn immediato contattando contattando un componente della CR il costo dei 500 chiodi voi avete quei 500 in caso morite avvertite uno della CR un soldato li trovate qua membri lo taggate uno di questi 5 qua e lui viene direttamente a sbannarvi vi fa rientrare subito in gioco vi toglie i 500 chiodi e se morite un'altra volta però dovete aspettare fino a lunedì questo significa che in una settimana avete solo una vita in più vi diamo solo una vita perché avete i 500 chiodi puoi anche morire e dire Frank ma io non voglio non voglio pagarli un saluto pro social non voglio pagarli allora ti ritieni lì e aspetti una settimana e rientri ok però una volta che passa i 10 giorni scusate dal randaggio dopo voi potete fare i chiodi metterli da parte in caso di morte capito Frank ok paga il mio amico per me viene lui con i chiodi ci porta i chiodi e ti sbanniamo se vuoi fare una cosa immediata se no c'è quel fatto lì allora se qualcuno ha qualcosa da dire potete fare domande ragazzi ricordate stiamo in live per un'oretta e mezza buona poi se gli argomenti va avanti si sta un po' di più qua rispondiamo a tutto quello che volete sapere se avete dei dubbi qualsiasi cosa avete visto nei regolamenti è tutto l'apertura vi ricordo che è per il 30 settembre alle 20 alle 20 saremo in live cominciamo e si farà tutto intanto ci sono stati un po' di spoiler eccoli qua questi siete voi prigionieri vedete come sarete voi entrerete direttamente così questo sarà il vostro vestiario in estenziale avrete qua mancano i guantini voi ho messo anche i guantini tagliati quindi avrete i guantini tutto questo kit con i guantini ok quando voi spawnate funzionerà che direttamente ci sarà uno di loro uno di questi questo è il capitano Frank Amaglio però non ho questo personaggio né un altro quindi questa foto andrà eliminata la cambieremo ci sarà uno in divisa questa è la divisa che utilizziamo all'interno della prigione ok poi all'esterno abbiamo altre divise quando usciamo questi sono quelli che utilizziamo quando siamo qui dentro questi sono quelli della CR ok questo è il comandante gli altri avranno il cappello da poliziotto poi abbiamo le divise da esterno e tutto ci sarà una sorta raga di divertimento esagerato staremo creando proprio una sorta di mondo che noi della CR abbiamo conquistato la prigione e con il vostro aiuto cercheremo di rifare nascere questa questa terra Livonia rinascerà nuovamente con le attività con le fazioni col commercio e tutto più ci saranno i briganti che vanno in giro a rapinare tutte cose varie però come avete visto c'è un regolamento che metterà tutti col chi va là ok leggetelo guardatevi in video e tutto ragazzi se qualcuno ha qualcosa da dire me lo dice andiamo giù di qualsiasi dubbio avete ve lo possiamo togliere o scrivete fate quello che volete poi parole ditemi la vostra se pensate c'è qualcosa che non vi piace un po' tutto noi siamo qua siamo qui per parlare con voi e sentire un po' tutte le cose allora che cosa abbiamo fatto cosa c'è di più nuovo qui c'è la chat come abbiamo detto modifiche il server ruolo attesa white se c'è i video vi spiegano come entrare nel server è tutto poi fazioni canale di radio rango ok questo sarà il rango vedete da 0 a 10 giorni abbiamo aggiunto una cosa ragazzi ora apparirà anche una sezione chiamata forse non so ancora il nome esatto o conto o donazioni ma non più più che donazione è una sezione dove potete ricaricare per avere dei soldi in game ok però come vedete da qua come vedete dal regolamento se voi non è una cosa che tutti possono ricaricare non è che se ti arrivi nuovo nuovo randaggio entri frank 30 euro dammi 3000 chiodi compro questo questo e questo no come tutti sapete per comprare le armi dovete essere a un certo livello c'è il livellaggio del personaggio più livellate più armi importanti potete comprare ok quando uno entra all'inizio è randaggio per i primi 10 giorni non può mandare neanche 10 euro al server ok ragazzi intanto vi dico già che il server è una spesa io ora sto pensando ora sto facendo il server test con pochi slot ho messo dai dai 10 slot per fare i test il 28 c'è da pagare il rinnovo del server ok io ora inizio le whites domani sto pensando di partire subito col botto facciamo subito una cosa un po' grossa è utile magari partire con 24 30 slot e poi dopo un mese passare a 60 si può partire anche subito con più slot però magari sto anche pensando dal 27 fino al 28 fino al 27 sera prima dello scadere vedo quanti hanno fatto la whitelist e possiamo aprire il doppio di quelli che hanno fatto la whitelist quindi da lì vedremo un po' tutto ok aspetta che aggiungo questa ok quindi se ci sarà l'aggiunta dei slot c'è una spesa come vi dicevo quindi tutto quello che arriva nel server si utilizzerà per pagare il server per mantenerlo la mia idea comunque è di arrivare ai 60 slot ok come vi guardate negli official è inutile fare un server magari anche se più avanti avremo tanti player da 100 slot portiamo manteniamolo normale partiamo un numero basso perché 60 slot è quando ci sono anche gli official e se andate troppo oltre secondo me potrebbe dar problemi di lag e tutto quindi quando siamo 60 va più che bene quindi entro il 27 cioè l'apertura avremo 60 slot ve lo dico già saremo 60 quindi come dicevo il randaggio per 10 giorni se vuole anche donare qualcosa al server per avere chiodi in game lo potrà fare ricordate che in questo server voi potete guadagnare soldi prendendo le cose e portandole ok io vi pago per quello che mi portate abbiamo già spiegato come funzionare il centro risorse se mai ve lo vedete il randaggio non potrà inviare niente al server non puoi fare nessuna donazione per avere soldi in game se sei sopravvissuto puoi mandare mille puoi avere mille chiodi al mese quindi equivale a 10 euro puoi inviare 10 euro al mese non di più ok se me ne mandi 20 io ti dico no me le mandate se vuole te le tengo ferme però per il prossimo mese il veterano invece potrà mandare un massimo di 20 euro al mese per avere 2000 chiodi quando sei un'ailander anche 30 euro al mese e avrai 3000 chiodi ovviamente per mantenere questi ranghi non dovete mai morire quindi uno che voleva pensava solo a fare soldi nel server avrebbe detto tutto aperto manda questi capito invece l'ho ragionata un po' che per fare le cose fatte bene quindi qui tutto chiarito raga abbiamo fatto veramente abbiamo vi dico la verità ho fatto un bel lavoro vi dico grazie a Ettore che mi ha curato tutta la parte quanto riguarda Discord dicevo Ettore aprimi questa sezione papam fatto Ettore fai questo nelle sezioni papam fatto Ettore mi puoi vedere quella papam fatto e dopo ci ho messo tutti i testi tutte queste cose qua Ettore ragazzi è quello che mi cura tutta la parte di Discord e io ho fatto tutto il resto si abbiamo fatto si può dire io Ettore con l'aiuto magari di piccolo raga devo essere onesto i ragazzi ci hanno da fare i moderatori ci hanno da fare non sono stati tanto a vedere per il server ogni tanto sono entrati hanno dato un'occhiatina hanno detto Frank guarda qui da poco cibo questo vedi bene Frank questo escono le munizioni vedi bene di toglierle a quello quindi sono entrati e ci hanno dato una mano in quel senso però non si sono potuti buttare con noi in questo in questo progetto perché sono un po' presi momentaneamente però ovviamente ci abbiamo Foggiano c'è l'unico dei moderatori che manca per ora è Ryugen però Ryugen ora ha parecchio lavoro e tutto io ti metto qui quando mi dai la certezza che ci sei ok quando lui mi dà la certezza lo inserisco qui con gli altri Ettore eccolo qua Foggiano poi c'è Sach lui mi ha dato una grossa mano su GTRP secondo me sarà molto utile anche qua quindi potrebbe diventare uno staff del server ragazzi ci saranno anche le white stai preparati allora professor ma i chiodi la moneta virtuale del server se ho capito bene giocando normalmente si guadagnano bisogna fare compravendita con il CR no 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 te ad esempio ora se ti guardavi il video dedicato scopriamo il centro risorse ti faccio un piccolo esempio se te prendi una ruota ok anzi facciamo un esempio con un vestito trovi un vestito che ti occupa 20 slot nell'inventario è intatto me lo porti io ti do 20 chiodi ok te ne prendi tanti te li metti a parte poi vieni da me frank guarda ho questo questo e questo ok totale 190 chiodi tieni pap dati capito questo è quello che potete guadagnare ovviamente chi non ci ha voglia di aspettare in base al livellaggio più livelli più puoi avere avere del denaro vi del denaro reale e ti diamo dei soldi in gioco direttamente però ricordati che quello che paga soldi in gioco per avere magari un m4 magari dice frank ecco 10 euro dammi mille chiodi ok con questi mille chiodi mi compro un m4 munizioni la pala per costruirmi la base questo mangiare cibo e tutto ok vai sei libero lui esce quando supera i confini di coppa magari ci sei te che non hai pagato un euro sei uno di quelli che si diverte perché è giusto anche uno se ha un mente di fare un'attività magari vuoi fare un'attività non vuoi aspettare troppo allora investi per avere un'attività e riguadagnare nel gioco e te puoi fregare uno a prenderti lì sopravvissuto sulle mani per me cosa c'hai c'ho un m4 oh dai ma l'ho comprato ora oh oh mettilo giù grazie mio e vai via e ieri ho fatto l'm4 lui e quello lì ha donato per avere cose no frank devi far ridarmelo un'altra volta perché l'ho perso e chi ti ha detto di comprarti un m4 su dosi ragazzi guardatevi i video per chi non li ha visti perché è un capolavoro di server e qui ci ha aiutato molto gtrp ragazzi perché veramente gtrp mi ha dato tanti spunti mi ero buttato su gtrp ultimamente a giocare con i ragazzi ovviamente non mi piace perché c'è tutti hanno soldi tutti i miliardari e a me piace il survivalismo e allora ho detto proviamo a portare quest'idea qua che nessuno mi ha fatto un bel lavoro del genere su prestation soprattutto poi abbiamo parecchia esperienza dai server passati quindi sappiamo di non fare più errori che abbiamo fatto i chiodi e quelli fisici per costruire sono presenti nella mappa allora ti dico di sì allora io qua se te vedi c'è scritto alle modifiche server eccolo qua eliminati i chiodi reperibili al cr ok abbiamo eliminato devo essere più chiaro guardate eliminate devo essere più chiaro scusatemi hai ragione eliminate le box chiodi come si chiamano eliminati le box dei chiodi reperibili al cr ok esattamente i chiodi ci sono li puoi o acquistare al cr o mi porterò o li acquisti ti ho detto come li puoi acquistare quando hai livello puoi pagare per avere un tot al mese oppure mi porti roba io ti do chiodi oppure vai in giro trovi gli zombie trovi una giacca intera se hai fortuna trovi i chiodi all'interno ok abbiamo messo una base di chiodi ok che va da uno ne puoi trovare uno come ne puoi trovare per ora ho messo uno cinque uno cinque però credo metterò qualcosa di più ora devo vedere domani stasera nei test vado in giro mazzo zombie vado in giro lutto guardo roba in giro in base a quanti ne faccio in una serata posso darvi un limite di quello che trovate bella ombra ciao frank sono ragazzo per la fazione ok su di clive l'esercito ti avevo chiesto come possiamo fare noi vorremmo essere una fazione che va in giro a aiutare le persone o a dare scorte a giro come se fossimo una sorta di forza dell'ordine per cercare di mantenere la calma in una situazione apocalittica guarda quello lo facciamo già noi l'esercito è proprio quello ok però nessuno ti vieta di aprire una fazione e avere questo stile di gioco nessuno ti vieta di fare una fazione anzi se ci mettiamo d'accordo noi siamo una fazione paramilitare se c'è una fazione che vuol prendersi un carico del genere noi potremmo anche dare una parte di polizia noi siamo una fazione paramilitare se vuol crearsi una specie di polizia secondaria a noi ovviamente sarete sempre sotto di noi nessuno vi vieta me lo dici vi prendiamo le uniformi da poliziotto queste storie qua valutiamo un po' queste cose quindi ne possiamo parlare però ti dico che quel tipo di idea che già cioè quella roba lì che stai scrivendo qua è già presente gruppo paramilitare siamo noi che facciamo già questo andiamo in giro aiutiamo le persone a aprire delle attività se qualcuno è stato rapinato cerchiamo di capire chi è stato però anche lì noi ci facciamo nulla lì è un po' il gioco dimmi un attimo come possiamo fare o entri direttamente raggiungi almeno il rango di sopravvissuto una volta che hai raggiunto quel rango potrai richiedere di entrare da noi direttamente al CR il CR fa questo capito è nato per questo se vuoi fare una fazione secondaria fa una cosa del genere nessuno te la vieta quando partirà il 30 settembre alle 20 a me e miei compagni ci piacerebbe dimmi te un attimo ragazzi se volete chiacchierare di qualcosa me lo dite o mi scrivi qui ne parliamo di qui non c'è ti ho detto noi facciamo questa fazione il CR eccolo qua centro risorse fa questo ok siamo in questa zona qua abbiamo copa noi prendiamo le persone nuove che arrivano le mettiamo dentro una cella quando è lunedì le facciamo uscire gli diamo il via al loro game e loro giocano tranquillamente noi andiamo in giro con le jeep abbiamo tutta la roba militare jeep lammer poi abbiamo il camion militare e andiamo in giro con quella roba lì andiamo verso le attività portiamo trasportiamo per le attività facciamo soccorso andiamo un po' in giro parliamo con i player siamo un po' una forza dell'ordine in zona se qualcuno viene rapinato proviamo a capire chi è stato ovviamente senza guardare i file log perché qui c'è una storia noi guardiamo i file log solo nel caso che c'è una kill gratuita ne abbiamo già parlato delle kill gratuite ok chi non sa di cosa si tratta lo leggete qua un tanto durante il resto della settimana non si potrà uccidere senza motivo valido i prigionieri per la CR sono delle risorse ovviamente vi vieta di rapinarli o costringere il vostro volere sempre nei limiti se si oppongono o tentare a fuggire se tentano di fuggire o estraggono un'arma avete il libro arbitrio sulla loro sorte Frank invece la fazione che avevi mandato noi su Discord con il PowerPoint la fazione che avevi mandato noi su Discord con il PowerPoint King17 non so se sei quel ragazzo che mi parlava di quella fazione allora per quello aspetta non mi ricordo il nome comunque ho parlato con qualcuno il PowerPoint mi ha fatto vedere un bel lavoretto però dovete partire come tutti da prigionieri col chip e tutto una volta che uscite di lì potete fare una sorta di lavoro che volete tranquillamente potete fare quello che volete ovviamente non potete attaccare la CR quello no poi potremo vedere più avanti se c'è una cosa contro la CR ma fate come te momentaneamente siamo tutti siete tutti prigionieri per il fatto della fazione esterna possiamo un attimo vedere potrebbe essere perché il martedì e il venerdì come sapete c'è l'orario RAI ovvero il pvp libero ovunque e in quel momento lì è spento il chip e lì si potrebbe collegare una fazione esterna tipo hacker che riescono a spengere il chip in quel momento lì per fare il pvp per tutta la mappa Masha Dipe si è lui oppure una scorta di esercito scienziati che vanno in giro a fare esperimenti su persone esercito ragazzi ve l'ho detto momentaneamente l'esercito cioè l'esercito noi siamo un gruppo paramilitare niente vi vieta però di farvi prendervi la vostra divisa con le fazioni decidere se volete i vostri cappelli militari tutte quelle cose lì se avete qualche dubbio volete entrare come dice Ettore potete entrare e dire la vostra pensi di fare qualcosa anche per pc no per pc nulla ombra solo playstation lo facciamo ti dico lo faccio qua perché su pc ci sarebbe mille problemi fai cheater quella roba là qua invece riusciamo a gestire bene le cose allora non lo so se vuole entrare qualcuno attesa live entrate vi dico tutto intanto si può fare anche una chi entra i facciamo subito una prova di potremmo fare subito ovviamente se Ettore è disponibile perché ora non posso accendere la play eh no era bene che lo faccio vedere io vabbè però si può fare anche una whitelist in diretta però si comincia domani le whitelist dai ragazzi non ora perché una volta le facciamo in live le whitelist raga quindi credo sicuramente domani è il che giorno è domani amore 26 27 cominciano le whitelist ok 27 ci saranno due orari faremo dalle ora decidiamo di orari anche delle whitelist 27 le facciamo facciamo due orari il 27 poi portiamo anche il 28 le facciamo in live due rette di live ogni volta facciamo tra le persone le portiamo nel posto le facciamo sluggare tutti pronti per lunedì lunedì quando loggerete vi trovate chiusi dentro la cella aiuto aiuto vogliamo uscire vengo su io vi apro la cella con i miei uomini che vi tengono sott'occhio ok mangia bevi ti facciamo mangiare come un porco bere come un maiale ti diamo tutte le medicine necessarie per sopravvivere ti diamo quattro dritte su come sopravvivere all'esterno e poi la tua avventura comincia qualsiasi domanda ragazzi ricordatevi siete in un mondo alla walking dead quindi sarà molto bello no perché la stavo per vendere la ps4 ok fortuna che non l'hai venduta dai almeno puoi entrare anche te ombra ombra comprati il gioco perché merita vedrai ti piacerà iron bunny dovrebbe venire ombra se non sbaglio quindi vi siete già parlati avete già sentito anche voi due la fazione esterna era per dare più rp al server king 17 sarebbe da parlarne o lo facciamo in privato ne possiamo parlare anche finita questa live oppure se vuoi puoi entrare qui se non hai problemi lo possiamo parlare anche in live però ti ho detto a me mi serve il fatto del chip devo valutare bene la tua idea perché fazione esterna contro la cr inizialmente non ce la vedo bene più avanti potrebbe anche starci vedere come integrarla capito anche a me piacerebbe far parte della cr come soldato pro social guarda basta che rimani vivo per dieci giorni nel server e dopo ti puoi presentare anzi non è no no puoi presentarti anche da subito però no facciamo almeno dieci giorni dai ecco almeno fai la prima prova è campare dieci giorni una volta che arrivi ci sono anche i gradi daremo lì alla cr ci sarà il cappellino da veterano il cappellino da cioè il cappellino di gradi e tutto avrete sì sì dopo dieci giorni via sol per vedere un po' che tipi siete se riuscite a campare è tutto ovviamente Saz ce l'ho già con me me lo porto già alla cr tranquillo Saz tra poco tra poco entriamo va bene King buonasera Beppe bella Beppe Beppe posto per te alla cr Beppe l'altro ragazzi John cioè Saz Beppe poi ci sarebbe anche Ciccio ma quel maledetto c'è l'Xbox ora gliela facciamo vendere si prende la Playstation viaggio che anche lui era il mio gruppetto su GTRP quindi questi già li conosco me li porto se vogliono entrare direttamente come soldati lì me li prendo volentieri poi per il discorso di King la fazione contro la cr come ti ho detto momentaneamente no però parti con l'idea di intanto iniziare come chip prigionieri partite vi fate la vostra storia la vostra fazione prendete una zona e tutto poi piano piano riusciamo a integrare un po' la situazione noi cercheremo di mantenere il bello di questo server raga che come vi ho detto non sarà un server di quelli che si accamminare pum morto ovvio se è martedì e venerdì dalle 20 alle 0 a 0 può succedere che cammini e pum morto perché magari c'è una cecchinata da lontano qualcuno che ha una mira allucinante ti fa secco martedì e venerdì dalle 20 a mezzanotte orario pvp libero non c'è nessun fermo negli altri giorni invece perché in quegli orari raga ci sono degli hacker che alla cr bloccano il segnale dei chip e non riusciamo a vedere nulla ok e lì potrebbe entrare bene la fazione più avanti di masher capito quindi stavo anche pensando magari la prima settimana di non attivare il pvp di martedì e venerdì capito i primi i primi dieci giorni dopo se riesco a integrare il masher e loro in qualche cosa il loro gruppetto potrebbero essere quelli che martedì e venerdì bloccano i chip riescono a bloccarci i chip in quei giorni capito una sorta di hackeraggio che ci fanno direttamente alla centrale al cr lì ci potrebbe stare una cosa del genere comunque la prima settimana sarà bloccato il cioè potete fare mirare giù tutto capito se questo scappa tira fuori un'arma se è un pericolo per voi che lo state mirando potete far secco però voi dovete rapinare e basta per adesso sono tenete orion ci conosciamo bella prosocia 80 ok ok un 44n 43n bella tenete orion siamo cresciuti e mi ricordo di te nel gruppo whatsapp dei pazzi due gruppi whatsapp da 500 persone mamma mia no tre ne avevamo aperti tre gruppi whatsapp 250 nel primo 250 nel secondo si faceva tutto prima con whatsapp e psn ora evitiamo di prendere i numeri di telefono delle persone perché era successo che tutti si iscrivevano con i numeri di whatsapp era un casino la mattina però c'era di quelle risate da farsi raga perché la mattina te lo giuro prendevamo il telefono mi svegliavo 700 messaggi c'era il gruppo whatsapp che avevamo ai tempi dei server 700 messaggi vedevi quello no io ti ho sparato di qui no sei uno stronzo ma ti ho sparato un bordello della madonna tutta la gente che litigava lì che se ne diceva di ogni difatti io tutte le volte c'era una bestemmia pipì fuori pipì fuori pipì fuori mi raccomando comportatevi sempre bene ragazzi divertiamo vorrei togliere questo devo togliere queste immagini qua come faccio a togliere sfocato mi fa schifo aspetta qua impostazioni video via la sfocatura tolta no ok più pulito ok bella tenente orion dai faremo si parte subito cattivi raga server da 66 8 immediato bei tempi a casa col covid fuori e noi a giocare a Dezzi mamma mia ragazzi no voglio riportare quei tempi raga però ve lo ricordate cosa odiavo io di Dezzi a quei tempi odiamo il fatto che ero in live è bello anche per chi fa live streaming raga molto bello perché chi fa live streaming io consiglio sempre se fai live streaming vuoi streamare sul server sei un soldato della CR non ti possono sparare sei un lavoratore non ti possono sparare possono vedere quello che fai nel server possono vedere ah andiamo là prendiamo ok per gli streamer consiglio questi ruoli ovvio se puoi essere uno streamer che vuole streamare e andare in giro a fare quello che vuoi cioè andare in giro a cercare di rapinare le persone vai però è chiaro che la gente ti può guardare poi seguite e tutto non esiste stream sniper ragazzi non verrò mai a dire no l'hai ucciso perché lo hai stream sniperato io nel server vi offro la possibilità di streamare ma avendo un ruolo un soldato può streamare tranquillo uno della CR uno di un'attività può streamare tranquillo ok quelli delle fazioni diciamo nella loro area possono streamare tranquilli perché sono tutelati nella loro area ovviamente niente vieta alla gente di entrare in quell'area però se è di una fazione quello della fazione ti può sparare a vista non è che ti dice oh sulle mani cosa ci fai qui dentro ovviamente sta a lui tu ovviamente non gli puoi sparare fino a che lui non è un pericolo per te se tu entri in una zona sua sei tu un pericolo per lui ti però puoi entrare zitto zitto per cercare di rubare degli oggetti importanti capito allora vi ricordate il fatto ci sono anche le munizioni ragazzi allora i costi anche delle munizioni ok ci sono munizioni per in base più o meno al tipo di munizione diciamo munizioni con poco potenziale verranno vendute a una scatola ad esempio 10 colpi ogni colpo vi verrà a costare 10 chiodi ogni colpo ok di quelle basse costo basso una scatola da 20 colpi vi costerà 20 chiodi 20 chiodi sì 20 chiodi avete 20 colpi per una 200 chiodi scusate 200 chiodi 200 chiodi 20 colpi di munizioni di basso livello quindi può essere 9 mm 22 vabbè c'è da valutare bene quello comunque i prezzi sono questi bassi basso potenziale stanno sui 20 chiodi a colpo 20 chiodi 10 chiodi a colpo ora non mi devo confondere poi si raddoppia per quelle rare quindi saranno sicuramente quelle per l'M4 5,56 o quelle 7 per 39 vedremo e si triplica per quelle altre ok sarà comunque vedrete sarà da 10 20 e 30 a colpo vedremo ora questo ancora per i colpi non ve l'avevo spiegato ve li farò vedere poi bene ve lo spiegherò ci abbiamo tempo prima di comprare i colpi ci vorrà 10 giorni ragazzi professore c'è tutto tutto bene cosa ti aspetti nella nuova mappa frank e anni che l'aspettavamo finalmente sì stiamo parlando di frost line eccola qua cosa interessante anche per frost line allora si parla che il 15 settembre uscirà nella nuova mappa ok qui vediamo un piccolo estratto l'utilizzo di gommoni sarà molto sulla sopravvivenza vedi sopravvivenza molto sui ghiacciai e tutto allora qui secondo me è una bella sopravvivenza sarà da fare in questo posto qua l'utilizzo di gommoni che non abbiamo mai avuto le barche le zifrost line ok anche su questo abbiamo tenuto la sezione per rimanere aggiornati cosa funziona anche per cosa succede anche per quella categoria lì quella anche lì abbiamo una bella idea intanto si parla che il 15 ottobre esce per pc e console noi da consolare siamo dubitosi però l'hanno detto è probabile però potrebbe uscire prima per pc e a seguire per playstation quello che si dice noi che nel momento che avremo anche la certezza che uscirà mettete veramente che esca il 15 ottobre il 15 ottobre noi non faremo lo switch da Livonia direttamente il 15 ottobre la il 15 ottobre io intanto inizierò a iniziare a prendermi un server su frontline inizio a lavorarci io in tranquillità è tutto quando è pronto è chiaro se esce il 15 è capace il 30 se ne vale la pena ovviamente la testerò se ne vale la pena il 30 saremo di là direttamente su frontline tutto quello che vi fate qua ragazzi non vi dico che ve lo portate se qua riuscite a mettervi da parte 5.000 chiodi prendete delle attività è tutto l'ho già spiegato in qualche video questo è per non ma ridici vabbè ma fra i 15 giorni di frank va di là cazzo gioco a fare nel server ormai aspetto intanto faccio altro e vado a giocare là direttamente quando è inutile sto a accumulare a vendere tutto per poi cosa intanto conosci gente fai pratica quindi ti puoi fare un gruppo un po' più grande già per questo uno dovrebbe continuare però quello che si metterà nel server che se te nel server riesci a mettere da parte ad esempio 10.000 chiodi ecco sul frostline te le troverai un quarto subito di partenza quindi 2500 chiodi ti ritrovi già nel conto appena cominci su frostline questo porterà la gente a giocare fino all'ultimo giorno che non passeremo direttamente di là metterai i soldi da parte i chiodi vende si fa il gruzzoletto e sul frostline troverai un quarto di quello non posso dirti 10.000 te le do 10.000 di là perché sennò subito sbagliamo l'economia arrivi di là sul frostline come un riccone ti do però un contentino ti sei dato da fare di qua un quarto di quello che hai messo da parte te lo porti sul frostline anche perché la storia continua tutto quello che creiamo qua sarà una storia che poi andremo a spostarci su frostline quindi ci sarà un continuo della sezione storia eccolo qua qui ci sarà un continuo che dirà come mai cosa è successo di tutta la nostra storia come ci siamo mostri nel server continuerà la storia ovvio io vi chiedo parecchio di mantenere un po' l'idea del gioco e della storia è facile da capirla quindi evitare di chiedere magari oh Frank cosa ha fatto l'Inter siamo un gruppo parlamentare siamo qui a Pucalisse cerchiamo di mantenere come ho detto RP PvP PvE anche perché se mi dite delle cose che secondo me non sono attinenti con quello che stiamo facendo il gioco che stiamo portando io ma che dici amico ma che stai dicendo ma che cazzo ti dà fuori il cervello fatelo mangiare quello ha un problema si manterrà un pochino anche il gioco poi fra di voi ovviamente non vi chiedo dovete far tutto però vi chiedo di provare a mantenere un po' l'RP della storia storia che continuerà su Frostline quando sarà il momento avrò i miei tempi per continuare ad andare di là intanto a sistemare tutto e voi nel frattempo che non è pronto il server continuate di qua mettete da parte soldi quando andate di là sarete già un pochino più avvantaggiati se poi di là mi arrivate come sei un veterano arrivi di là come veterano te se parti da veterano nessuno ti dice ti rifaccio ripartire da randaggio perché ti ho detto la storia continua non ti do i soldi che hai di qua perché in base alla storia magari faremo un piccolo esempio raga il gruppo di paramilitari così mi viene in testa ora il gruppo di paramilitari sono riusciti a recuperare una nave hanno portato a bordo tutti quelli che erano qui in quest'isola li stanno portando nella nuova regione di Frostline attenzione è successo che siamo la nave affondata cazzo ognuno ha preso quello che poteva e tutti siamo rimasti con un quarto di quello che avevamo ok e si porta su Frostline ovviamente più avanti ragazzi è tempo tanto prima che è pronta è tutto allora riapri sezione Frostline sezione Frostline vedi qui dice 15 ottobre la caricata adesso è 32.09 22.12 eccolo qua e qui dice 15.10.24 abbiamo come ho detto se esce il 15 io prendo il server me lo lavoro 15 giorni e il 30 magari c'è il passaggio facciamo una bella storiella 15 giorni mi bastano fra creare una storia e tutto nel server vedrete anche una storia andrà avanti un po' la storia tutto quello che faremo accadrà e tutto voglio collegare una storia proprio nel server fatto veramente bene c'ho veramente guarda veramente gtrp mi è venuto mi ha dato una grossa mano ti dico la verità pensando cioè io gtrp l'ho sempre sdobbato ma il gioco non mi ha mai attirato e vi dico che dopo averlo provato è difficile che ci torna ok è difficile che ci torno perché è difficile trovare un server dove i prezzi sono giusti la gente offro io offro io non è vita reale raga perché ora forse quelli di Roma ci stanno provando hanno fatto un aggiornamento è uscito da 2.0 li spammiamo nel nostro disco datevi un'occhiata se vi interessa eccoli qua server consigliati Roma hanno fatto da 2.0 lì sembra che sono partiti già con un altro piede diverso perché io sono uscito anche perché ho smesso di giocarci anche perché troppi soldi erano tutti milionari tutte quelle macchine non mi piaceva quindi anche lì l'abbiamo usato per quello non era proprio attendibile comunque allora tanto se non avete domande cioè raga vi va bene che il server è così io pensavo apro la live stasera mi faranno due coglioni così no questo no anche quell'altro e invece siete bravi così ok vi dico un'altra cosa allora come vedete qui c'è scritto eliminate le armi ok acquistabili dal CR perfetto perché questo per evitare che arriva la gente subito più un giorno va a cercare un'arma boom arriva spara quello facciamo una cosa piano piano con calma non è brutto raga fate il soldo iniziale venite al CR e comprate come comprate attenzione allora come vedete il prezzo delle armi centrisorse avendo oggetti intatti ok un m4 ad esempio queste sono le updates ok ora quella lì google center vediamo se me la fa vedere no non la vedete voi vabbè dovrei aprire una pagina internet vabbè ve lo dico io l'm4 24 slot ok 24 slot ci avete è lo spazio che occupa un m4 dato che è un'arma rara noi abbiamo detto aggiungiamo uno 0 quindi 240 se era comune ma è raro quindi si va a 4 e 80 vi costerà ok ma che cosa vi do io vi do un m4 quando te lo so ti dici frank ma hai resto io ti do lo scheletro m4 ok caricatore li puoi comprare sempre da me i colpi li compri da me a parte i caricatori forse li faremo trovare nel server li avevo tolti perché dentro i caricatori c'era dei colpi però ora sono riuscito a eliminare i colpi che erano dentro quindi posso farli riuscire te dovrai andare in giro trovarti i pezzi dell'm4 il calcio l'ottica il paraguanciale il stanziatore tutto quello che vuoi te avrai i pezzi quando arrivi a me compri l'm4 ci monti i tuoi pezzi e c'hai pronto il tuo fucile è uguale sarà figo anche raga per il fatto di aspetta rispondere alla domanda una domanda i giorni di sopravvivenza equivale ad un giorno reale o un giorno del gioco cioè come si arriva a 10 giorni per diventare da randaggio a sopravvissuto ottima domanda bravissimo perché uno pensa passa i 10 giorni del gioco ecco fatto no ovviamente un giorno reale ogni giorno io vado a vedere direttamente vi vado ad aggiungere direttamente ora io momentaneamente ragazzi ho messo giorno ok quindi inizialmente siamo pochi vedo se riesco a gestire bene la cosa vado a aumentare a mezzanotte uno ad ognuno ok in base a come siete entrati nel server no vai io sono lunedì sarò a uno poi martedì lunedì sera a mezzanotte vi vado a mettere già due poi ci saranno tre quattro giorni reali quando arrivate a 10 potete tornare al cr dirmi guarda voglio vendere questa roba ok vendi ok cosa posso comprare roba comune potrei farti vedere una schermata di qua aspetta facciamo condividi cattura lo schermo guarda vi consiglio queste due app raga izzurviva vabbè credo la la conosciate se non la conoscete scaricate perché è tanta tanta roba vi aiuterà un sacco a vedere tutto ok qua è copa ok questa è la mia zona vedete che copa c'è questa roba qua se voi guardate bene questa roba vabbè non si vede proprio bene vabbè comunque qui è tutto c'è un intorno a una recensione quindi qui dentro non si può sparare esternamente si qua non spawna nulla non ci sono zombie è la solita cosa che farò a un lavoratore che più è una zona gli toglieremo lo spawn da quella zona degli oggetti e gli toglieremo tutti i zombie ok i primi spawn li trovate qua ok state vedendo no non stavate vedendo vero aspetta un po' cattura eh sì no non stavate vedendo aspettate vi devo mettere sopra questo ok qua vi dicevo questa è copa qua ci sono i confini di copa vi troverete c'è una recensione interna qua c'è tutta la mappa Azure Viva quella qui me la tengo sempre disponibile vedi queste saranno una zona statica questo lo potrà prendere un clan che avrà messo da parte 10.000 chiodi dove ci sono le zone arancioni per averla per una fazione per avere una zona dove c'è una piccola nube arancione tutta questa zona qui la puoi prendere con 5.000 se invece se una fazione non vuole spendere più di 2.500 ti puoi prendere qualsiasi punto dove c'è uno di questi rosso però qui no perché c'è questo però puoi prenderti una zona tipo che ne so qua giù vedi qua è zona rossa militare ma non c'è la nuvoletta arancione sopra questa vi servirà per capire anche le zone radar ok dinamica statica poi vedete il video capite meglio allora vediamo le armi intanto del server come dicevo tutte queste sono armi che le potete comprare a 60 chiodi per farvi capire questa forse anche a meno perché questi mi sembrano occupano se occupa 9 90 chiodi in base a quanto occupano armi comune sono lo potete vedere direttamente dall'app che abbiamo messo se è comune o no questo ad esempio mi sembra veri raro questi sono più comuni li potete comprare un fucile a pompa ad esempio che è bello sciottoso vi costerà 270 chiodi 27 di slot occupa aggiungiamolo 0 perché è comune 2,70 ok eccolo qua pk non vi sembra un po' troppo lavoro da sostenere indy e kdpdv spiegami un attimo cosa intendi cambio a cattura immagine da streamlabs ora lo vedete si ok mettiamo più piccina si potete vedere anche il flancone così qui non mi dice però quanto occupa di spazio poi vabbè io vi consiglio sempre la traduzione ragazzi per andare a capire bene traduzione leggete tutto quello che fanno è tutto vedete questa è una bella sezione per trovare tutto ad esempio qua potete vedere tutte le armi le ottiche che ci sono munizioni tutto quello che vi può piacere questo ecco qua anche questo volete un fucile non è nessun problema devi essere un highlander quando sei a livello highlander questo mi pare 30 slot aggiungiamolo 0 e moltiplichiamo per 3 per il very raro si va a 900 chiodi questo vi ci vuole in prezzo 900 chiodi se non ce li avete lo volete subito costa 9 euro questa arma qui ogni chiodo un centesimo quindi o li fate in game oppure quando sei c'è la possibilità te lo puoi comprare direttamente guardate che ora intanto abbiamo una spesa da sostenere per il server dobbiamo fare 60 slot nitrado non mi ricordo la spesa comunque la vedo dopo la vediamo no vabbè dai vediamo dopo qui comunque avete tutto armi tools utensili potete avere tutta la roba che trovate in giro in base agli slot per vedere quanti slot occupa ve l'ho detto dovete guardare bene direttamente nell'app che abbiamo messo dal telefonino la trovate meglio ok così allora nel senso che c'è tanto lavoro per chi gestisce no no non ti credere guarda ti dico ho fatto tutto da solo Ettore mi ha aiutato nella sezione la parte discord l'ha fatta Ettore la parte server me la sono fatta tutta da solo e ti posso garantire che ho messo tutto in modo da non avere il minimo problema ok quando ti arriverai capirai tutto e c'è gente magari che dai ma nessuno ci pensa a questo fatto io so già come fare i soldi chiodi cioè fammi capire ti porto una cosa da 20 slot intatta te mi dai 20 chiodi so io come fregarti c'è la gente che dice frank oh che bella macchina vedo laggiù bella quella macchina oh uno sportello da quanti quanti slot è lo sportello raga vediamo chi lo sa quanti slot sono lo sportello di una macchina quanti slot aspettiamo che ci rispondono in base ai slot mi porti uno slot da 100 ovviamente se intatto te lo pago 100 se è usurato te lo pago la metà 50 se è danneggiato te lo pago diviso 3 si va a 33 chiodi se questo sportello invece è veramente danneggiato lo divido per 4 e te lo pago 25 chiodi vediamo un po' quanti slot ha ragazzi uno sportello su dei z poi parliamo dei repair kit abbiamo tolto i repair kit tutti i repair kit e qui dovrete capire il motivo però se conti un giorno reale un player log a 10 minuti viene comunque contato un giorno certo pro social hai detto benissimo hai detto benissimo ma cosa succede te puoi social per farti capire non viene specificato di un video log no no non c'è l'obbligo io lo sai che non sto lì a controllare ma ti spiego anche il motivo uno se viene a giocare entri nel server vuoi giocare ok vuoi giocare nel server grazie per il follow dico uno se vuoi entrare nel server vieni per giocare uno se però ti dici oh io loggo all'inizio poi per 10 giorni non mi faccio vedere quando è l'undicesimo giorno entro e vado direttamente a comprare alla zona del sopravvissuto cosa è successo non hai giocato per 10 giorni non ti sei divertito non hai conosciuto gente non hai preso materiale e cosa mi porti quando arrivi al decimo giorno voglio questo e questo e questo e soldi ah perché devo luttare per avere soldi sì Frank vabbè sono livello sopravvissuto allora ti do 30 euro e mi dai 3000 chiodi guarda sei a livello sopravvissuto è vero puoi mandare 10 euro e io ti do 1000 chiodi capito quello che ti dico se te lo loghi 10 minuti arrivi sì dice è peggio per te alla fine non giochi chiaro se io vedo ogni giorno io ti aggiungo un giorno quando sarà quel giorno lì è chiaro se hai chiodi ti do la roba se non ci li hai non fai niente però io credo che uno ve la giocare per divertirsi no no per la gestione ragazzi tranquillo ve l'ho detto riesco a far tutto bene inizialmente anche da solo poi avrò ovviamente come vedete qua ci sono dei soldati tutta gente che ha già passato la whitelist che già conosce tutto il regolamento nel dettaglio e sono già dentro sono moderatore moderatore moderatrice frank e lui è johnny uno che già conosco però sa già come funziona tutto però gli dovrò fare un'altra whitelist per sicurezza però mi aiuterà nella costruzione della van post e lui farà il soldato con me sarà il comando del comandante della cera sì non è accumulato niente effettivamente se uno non log bravo capito se non vuoi logare non logare aspetta avrai un dicesimo giorno ti dico sì sei a livello sopravvissuto cosa vuoi eh vorrei comprare e con cosa è che non c'è chiodi eh allora vai a fare vai a fare qualcosa schifoso ma il bello dei chiodi raga che li puoi fare andando in giro perché ci sarà anche come vi ho detto ho messo i chiodi un po' in giro su zombie sui vestiti li trovate all'interno degli oggetti dei contenitori potete trovarli chiaro che non ci saranno cento chiodi ok rapini un player che ha dei chiodi addosso ci sarà un po' una sorta di i player ne avranno puoi trovarli in giro li puoi prendere direttamente c'è modo per fare i chiodi raga è chiaro devi giocare luttare andare in giro rapinare fare tutte queste cose qui aprirti un'attività pensa che è bello io guarda io sono il comandante della CR ma vorrei essere troppo il meccanico raga ve lo dico io guarda colui che farà il meccanico nel server sarà uno di quelli che si divertirà più di tutti come tutti gli altri lavori però pensa il meccanico ora vi dico meccanico perché è bella come tutti gli altri però anche il meccanico è particolarmente carino ora ho aperto questi poi li rivedremo con calma il lavoro il meccanico il meccanico cosa fa? te hai una macchina hai trovato una macchina ti serve una ruota da chi la compri? la CR voglio una ruota eh no guarda ha aperto l'attività meccanico vai da lui vai dal meccanico il meccanico vai là voglio una ruota ok che ruota serve? questa ok come la vuoi? la vuoi intatta? 36 slot 360 chiodi ok eccola qui ovviamente le ruote ragazzi trovate anche in giro ricordatevelo trovate una ruota in giro e vi stavo spiegando quella cosa dei 100 slot prima che arriva uno con le lamiere che mi porta che è da 100 slot uno sportello da 100 slot ormai finisco il discorso quello poi arriviamo al meccanico lamiere da 100 slot sportelli da 100 slot cassa marinaio da 100 slot cos'altro c'è da 100 slot barile da 150 slot ok Frank ecco un barile 150 slot vieni 150 chiodi io lo guardo dico ma non lo vedi che è veramente danneggiato come ah si questa portiera veramente danneggiata quanto me la paghi 20 chiodi 25 chiodi ah non me la paghi 100 eh no perché è veramente danneggiato cosa puoi fare puoi andare dal meccanico con la portiera me la ripari il meccanico sarà quello che ha il kit per riparare te la ripara te la fa anche però avrà un costo capito avrà un costo tutti gli sportelli delle auto le ruote delle auto le lamiere casse da marinaio bidoni tutte queste cose da più dei 50 da 100 slot in su le troverete nel server ma le troverete tutte siamo in un apocalisse ragazzi veramente danneggiate perché io se no ti lascio una portiera ma la trovo in tata 100 slot mi rovini l'economia siamo in un apocalisse è passato il tempo sono tutte cose veramente danneggiate utilizzabili ma veramente danneggiate quindi tu andate al meccanico ah al meccanico voglio comprarmi una macchina c'è il prezzo teleauto in base agli slot e tutto anche quello buonasera ranga chef chiodi servono anche per la costruzione sì ovvio ragazzi certo non ricordo quanti chiodi per un muro mi pare 32 32 chiodi li trovate in giro li prendete al cr portandomi roba e se riuscite a arrivare a livello sopravvissuto veterano e highlander potete chiederli anche nel conto un'aggiunta nel conto ricordate tutti i soldi che arrivano ovviamente nel server se arrivano come ho detto faccio pagare soltanto nel caso arrivato a un livello i primi 10 giorni non siete obbligati a dare nulla chi vuole a livello sopravvissuto può pagare 10 euro a 1000 chiodi quando arrivi a livello veterano poi fino c'è un limite 10 euro al mese ma se non è che arriva uno 100 euro dammi 100.000 chiodi 10.000 chiodi 10 euro al giorno 10 euro al mese non mi dai tutti questi soldi ovviamente li usiamo per il server per pagare direttamente l'economia il rinnovo del server e tutto li troverete anche addosso ai zombie e tutto ovviamente piccola parte ragazzi non è che vi posso far trovare come ho detto ora sto facendo il test per domani devo comprare la play allora rangrana chef comprala fidati comprala perché ti dico già che questo sarà il server più bello che io abbia mai aperto sì i primi su belli perché ci siamo conosciuti tanti player il gran casino iniziale ma questo rifarà vivere quei momenti che avevamo quei tempi ragazzi più di 100 player lì mamma mia un bordello di 100 però ora anche dagli errori che abbiamo fatto e tempi anche su scam abbiamo fatto dei bei server dove si erano arrivati a bei numeri anche lì eravamo sui non mi ricordo quanto avevamo fatto 70 80 non me lo ricordo però io dopo avevo rovinato un po' le cose per gli errori però dagli errori ragazzi impara e cercherò in questo server non si farà il minimo errore dagli errori si impara e si tira su un bel server tutti insieme ragazzi avremo veramente un bel lavoro cioè questa è proprio un po' con la storia dentro bellissimo bellissimo comunque vi dicevo il meccanico torniamo un attimo al meccanico il meccanico sarà colui che potete comprare tutti i pezzi delle auto come vi ho detto i pezzi auto li trovate in giro voi arrivate dal meccanico vuoi una macchina una macchina le macchine quanto costano le macchine hanno un prezzo una macchina lì guardiamo quanto slot hanno una ADA ad esempio sta facciamo vedere le macchine allora andiamo sull'ADA veicoli ADA eccola qui perfetta guarda è proprio perfetta eccola qui l'ADA ora mi dispiace che la vedete un po' piccina ora un po' più grande sgranatissima schifosissima vabbè questa è l'ADA ok questa è l'ADA come la vedete l'ADA la vedete così no? ecco quando te questa c'ha 300 slot quando te vuoi un'ADA ti dico sì l'ADA ok perfetto c'ha 300 slot come vi ho detto sono tutte auto comuni queste ok non sono rare quindi non si andrà mai a raddoppiare ma se aggiungono 0 300 di slot quest'auto vi costerà con l'aggiunta dello 0 3000 chiodi pari a 30 euro oppure fate i 3000 chiodi nel server mi portate roba e tutto ok è chiaro che se ti arrivi da randaggio oh 30 euro non li puoi inviare 30 euro mi li puoi mandare in un Highlander in un mese ok se sei un veterano mi li puoi mandare massimo 2000 mi dai 2000 e 1000 li devi guadagnare in game se sei uno sopravvissuto mi li puoi mandare 1000 10 euro e 2000 li devi fare in game vi faccio fare tutto in modo a modino e vi prendete un'Ada e questo sarà quello che comprerete così come la vedete adesso 3000 e Frank ma io voglio anche le ruote voglio la batteria le vuoi certo le paghi una batteria quant'è quant'è la batteria non me lo ricordo fai conto si ha 9 slot 90 chiodi una ruota 36 slot 360 nessuno ti vieta di prenderti pezzi in giro da solo perché noi ti vendiamo questa a parte te le puoi anche trovare le macchine in giro ci sono premetto che le auto in giro ve le potete fare in giro ci sono le potete fare e sono tutte intatte quelle che ti trovate in giro così perché ve le ho lasciate intatte anche quelle potrei danneggiarle un po' e si il meccanico deve lavorare ora devo fare una prova se il meccanico può riparare mi sembra che può riparare il motore tutte queste cose andiamo del lavoro al meccanico ovviamente se la comprate direttamente da lui ve la dà intatta e tutto comprati tutti i pezzi li potete prendere da soli ve li mettete alla macchina piano piano e questo sarà il meccanico poi ci sarà la locanda che sarà coloro che vengono da mangiare bere tutte queste cose qui la ferramenta farmacia elettronica l'edilizia caccia e pesca e sartoria queste sono delle attività che abbiamo messo poi ovviamente se ve ne vengono in mente altre sì non c'è problema potete pensarci è tutto chi ha un'attività avrà lo sconto del 20% sugli acquisti presso il centro risorse ok già nei video ne abbiamo parlato comunque devi comprare la play allora ho iniziato con dei zii guardando te e allora continui a giocarci continuando a guardare il frencone Ragnar Chef Ragnar che bello quel nome guarda questi capelli mi li sono fatti grazie a quel telefilm lì Ragnar se è quello di Viking da quando ho visto quel telefilm se ti vai a vedere la prima volta ho i capelli biondo platino è quando ho finito di vedere Viking quella roba lì troppo bello e quindi ragazzi una grossa figata in arrivo se qualcuno ha qualcosa a dire ditemi non attesa White se è tutto intanto potremo fare Ettore appena è disponibile lo facciamo semmo entrare o qualcuno di voi tipo guarda Johnny io vorrei Johnny lo sai perché? perché Johnny dobbiamo fare una White List in diretta ragazzi almeno sapere le domande se sa qualcosa potremmo fargliela però da domani dai da domani da domani con calma domani ci saranno le live dal 27 abbiamo detto al 27 iniziamo viene tutto scritto su Discord raga qua scriveremo quando apriamo le White List gli orari e tutto poi in attesa White List qui metteremo gli orari ora per ora ho messo 17.30 19.30 ok ora non è attendibile adesso quindi per adesso in attesa verrà comunicato orario a breve comunicato dai no raga veramente vi dico dei zii stiamo facendo un bel lavoro ah qui ricordatevi mettere il pulsantino qui raga intanto già 29 l'hanno messo una volta che avete il pulsantino da appena apri il server solo chi ha cliccato con ruolo d'AIDS potrà commentare in questa chat potrà scrivere qua ok tutti potranno vederla ma solo chi ha il ruolo potrà venire a scrivere qua questo da appena ora mi sembra tutti lo potete fare scrivere tranquillamente però dal momento che apriamo il server mettiamo soltanto chi ha il ruolo fazioni ma anche qui le fazioni raga ma cos'è comunque come dicevo i commercianti il 20% capito dopo il commerciante sarà colui che mi compra una cosa a me magari dedicata al meccanico la compri a me apprezzo col 20% in meno e la rivende agli altri puoi rivenderla agli altri ci guadagni capito la rivende agli altri apprezzo la compri a 800 da me la rivende a 1000 tanto loro da me non le possono più comprare le robe a meccanico perché dico no non puoi comprare il CR ha aperto il meccanico vai da lui qui avremo i canali radio dedicati alle attività ragazzi sarà un canale radio dedicato all'attività e tutto poi come vi dicevo vedete i membri qua se uno fa il meccanico status meccanico quindi vi serve qualcosa da lui cliccate sul nome o quando noi ci possiamo vedere per questo lui vi risponde e vi incontrate in game o lo contattate direttamente via radio quando sarà in game faremo una sezione magari dedicata a loro dove possono scrivere quando sono disponibili e tutto vabbè quello vedrete in game tanto ovvio che se quello è chiuso valutiamo un po' però è chiaro noi diamo il lavoro alla gente che è presente e tutto quindi prima di prendere un'attività pensateci almeno un po' di presenza ci vuole però è bello pensa alla sartoria gli porti gli abiti te li ripara ti ripara i zaini molta di roba possono anche vendere ovviamente tutti questi qua possono anche vendervi i vari attrezzi se voi vi serve uno scotch andate a ferramenta se vi serve un kit da cucito andate dalla sartoria se vi serve una chiave inglese quello che sia andate dal meccanico ok farmacia per le medicine tutte le varie cose caccia e pesca questo se comprerà tutta la roba da caccia passerà a questo qua caccia e pesca ovviamente poi questi negozi abbiamo messo così al volo poi ovviamente se uno si vuole inventare qualcosa di meglio può fare allora questo va per le fazioni intanto se avete qualche domanda anche per le fazioni fatemi sapere qua raga basta cliccare qui se volete dire qualcosa se no scrivete qui in chat non c'è problema sezioni tanta roba fazioni qua le fazioni le potete fare solo nelle zone militari ok zona libera dinamica e statica come vi dicevo prima eccole qua aspetta vi apro di qui ok la vedete zona statica queste sono le zone vedete guarda quanta pubblicità ho fatto ancora pubblicità ah no perché ho zoomato prima un sacco per far vedere la macchina ok 125 allora zona libera una fazione che vuole una zona libera quanto costava zona libera rivediamo allora 4 prigionieri per una zona libera se vi volete fare una fazione requisiti per creare una fazione se c'è una libera il capo fazione deve raggiungere il rango sopravvissuto quindi dopo 10 giorni sei raggiunto il capo clan capo fazione ha passato 10 giorni di vita può richiedere una zona libera e deve essere con altre 4 persone anche tra i randaggi non mi interessa l'importante che lui sia arrivato al livello sopravvissuto zona libera e lui potrà scegliere una zona militare libera ovvero senza questa qui queste sono dinamiche vedete dinamica dinamica quelle rosse sono statiche ce ne sono due una qui e una qui e queste sono zone dinamiche e quindi una zona statica una zona militare che può prendere potrebbe essere una senza quella nube quindi potrebbe andare velo detto qua giù può prendersi queste zone qua un'altra zona libera da questa roba dove ce n'era un'altra da queste parti però regolarmente uno arriva a 5000 chiodi vedi un'altra eccola ah questa è copa beh zona libera non è che ce ne sono tante vabbè libera può essere anche vediamo un po' qua un'altra zona piccola militare quella qua dove c'è il logo rosso puoi riprendere la zona capito ti prendi tutta questa zona qui invece voi la zona dinamica sono quelli arancioni ovviamente come abbiamo detto vi toglieremo di mezzo tutta la nube e i zombie e quella diventerà vostra ok per la zona live 25 zona dinamica 5000 e 10000 quella statica ripuliremo tutto consigliamo un kit iniziale ci sarà un kit iniziale in base alle fazioni se prendi una zona libera avrai un tot di allora per la zona libera non l'ho ancora messo ma ho intenzione di fare così sentite questo per l'RP invece ogni player deve avere già una sua storia no non è obbligatorio voi siete la vostra storia è questa siete tutti prigionieri voi siete prigionieri ovviamente sta a voi se volete dire si io ero in prigione per questo noi siamo un gruppo paramilitare abbiamo liberato la prigione voi eravate tutti al sicuro perché i zombie erano tutti esterno e voi eravate lì poi se ognuno si vuole dire io sono qui dentro perché avevo fatto un crimine questo quell'altro a noi non interessa quello è una cosa vostra siete tutti prigionieri quindi partite tutti che noi veniamo lì vi diamo la libertà il nostro gruppo paramilitare ha liberato la prigione e dice guarda noi vi facciamo uscire ma vi abbiamo impiantato un chip per controllarvi dovete recuperare materiale per noi che ci serve il materiale portateci roba se volete avere delle armi se volete avere qualcosa altrimenti siete libri per andare dove volete dicevo allora se prendi una zona libera il kit iniziale che ti manderemo sarà un kit comune ok riceverete quindi armi comune possono essere pistole fucili comuni munizioni comune un po' tutta la roba comune ok kit iniziale per avere qualcosa per lavorare munizioni queste fasce bandiera tutte queste cose qua livello comune zona dinamica si parla già di M4 AK ci può essere anche qualche MP5 qualche pistola più importante ovviamente zona statica 10.000 chiodi WSD fucile da cecchino mitragliatori pesanti LAR tutta questa roba qua in base a quello che prendete come zona avrete di più è chiaro se pagate di più avrete di più poi anche qui avete degli sconti dopo diventate voi un po' i mercati d'armi del server perché una volta che avete una zona statica avete uno sconto del 20% comprate da me un WSD a 3.000 chiodi bene lo comprate e voi no a 3.000 costa normalmente col 20% di sconto è qui su cazzi però ci viene sempre un aiuto la calcolatrice 3.000 diviso 100 per 20 ok perfetto lo pagate 6.000 di più ma che cazzo fa aspetta 3.000 diviso 20 per 100 ok perfetto 15.000 vabbè facciamo conto costa 1.000 il WSD 20% di sconto lo pagate 80 ok e voi 800 e lo rivendete a 900 950 1.000 addirittura perché o lo vendono prende da 1.000 o no l'unica cosa che non potete fare è avere il monopolio delle armi no perché io le vendo sempre il WSD lo venderò a tutti a 1.000 voi datelo pagate 20% in meno potete venderli a 900 ci guadagnate 100 chiodi a vendita a 9.50 lui ci risparmia 50 dice se vado da Frank al CL lo pago 1000 alla zona militare statica lo pago 9.50 vado da loro loro lo comprono al 20% in meno 800 e lo rivendono a 9.50 guadagnano a 150 voi risparmiate e loro guadagnano sconto 10% per la zona dinamica e 5% per quelle e altre quante domande fate alla WL un paio conoscitiva entrate si fa una chiacchiera vediamo che tipo di persona siete si fa una chiacchiera veloce niente di esagerato lo sapete facciamo le domande ti posso chiedere soprattutto che ne so siamo in regolamento ma dimmi una cosa se ad esempio oggi è mercoledì è mercoledì sono le 11 di mattina di mercoledì incontri una persona gli puoi sparare subito così eh no Frank non posso devo andare lì e devo rapinarlo fare queste cose tutto capito e ti dico è martedì sono le 9 di sera uno ti spara ti puoi venire a lamentare eh no Frank perché è orario ride non posso in quell'orario eccolo là orario ride tutti martedì venerdì dalle 20 a mezzanotte domande generali è chiaro che non ti verrò a dire ma dimmi una cosa quanti soldi massimo puoi darmi te se diventai lander ti faccio domande più per non far danni nel server roba tranquilla raga non vi preoccupate è solo per fare chiacchi sentire la voce delle persone è tutto possiamo fare la VL in gruppo sì anche in gruppo va bene farò un paio di domande un po' a uno un po' all'altro dovete divertire in gruppo è chiaro se non siete in otto magari un gruppo un po' piccolo sì non c'è problema sì si può fare anche in gruppo dai ragazzi intanto faccio un paio di domande a tutti voi ci si conosce un attimo poi una volta che siete che siete passati cosa succede mettiamo qua mettiamo lì ok allora per me sei promosso da quel momento copio un collo metto sotto metto il tuo discord il tuo PSN ti do il ruolo randaggio iniziale ti metto il ruolo nessuno stato nessuno perché non sei né un lavoratore né un soldato né un membro di una fazione all'inizio sei nessuno status nessuno quando passano i 10 giorni allora puoi avere lo status da membro di una fazione soldato della CR lavoratore o se vuoi continui a essere un nessuno chiudiziali te ne verranno dati 500 e i giorni verranno scritti qua domande continuate con le domande perché approfittatene oggi che ve ne do un paio poi io mi rebutto a lavorare ancora un po' sul server e ciò da vedere gli ultimi test allora vi dico vi dico fatemi bene un attimo perché se no qui ci vorrebbe uno yogurt vedete questo bere qua ecco voi ricordate che una volta che siete passati la whiteress entrate subito nel server vi accompagniamo un soldato della CR vi accompagna in cella vi butta dentro la cella prima di vi butta dentro la cella poi quando sarà il momento che dovete uscire vi apriamo il cancello c'è un cancello a codice non potete andarlo a toccare perché è troppo lontano il codice da voi quindi quando loggate se loggate quando non ci siamo non c'è nessuno quindi solo lunedì dalle 20 mezzanotte potete loggare entrate e vi faremo bere mangiare quanto vi pare ve lo mettiamo lì mangia e bevi quanto ti pare ti diamo un paio di scatolette a portarti dietro medicinali vitamine tetra e antiferite se ti tagliano zombie le gaze anche per noi sei una risorsa quindi non vogliamo mandarti allo sbaraglio facciamo uscire dalla prigione con la pancia piena pieno tutto ti daremo qualcosina per riuscire a campare inizialmente però non ti diamo armi non pensate vi do un coltello queste cose no vi riempio la pancia vi faccio mangiare bere vi do le medicine da portarvi con voi delle gaze se avete dei problemi un po' di cibo così iniziale ma quello lo trovate potrei anche non darvelo vedrete quanto c'è nel server ora per l'economia non voglio che sia troppo perché poi quando apre la locanda dovremo abbassare un po' anche perché voglio che la gente vada a cacciare ok non che si basi solo sul mangiare che trova in giro quindi inizialmente va bene poi mano a mano lo andremo a abbassare un pochino e vi porteremo un po' a cacciare o andare alla locanda fino a che non apre la locanda inizialmente un po' di più ce n'è poi pensa che è bello vai a cacciare e dove lo porti la carne il pellame tutte queste cose dove le porti dov'è un po' una volta che hai cacciato da chi vai una volta che ha aperto il commerciante di caccia e pesca hai pescato bene vai a dare a lui gli vendi pesci vendi la carne la pelle le ossa non so se le compro devo sentire cosa dice poi ci sarà magari anche più amante secondo me sarebbe carino un negozio di crafting dove compra tutte le cose craftate ok e ti compra e te le fa anche lui e te le vende capito è carino e ti può vendere tutta la roba craftata così poi stavo pensando anche di aprire un negozio di oggettistica particolare ovvero tutte quelle cose che nel server magari non ci sono perché vanno aggiunte che può essere che ne so così sui due piedi fammi pensare va beh lo vedremo dai c'è tante cose nuove che nel server non ci sono inizialmente devo aggiungere inserendole così le potremo fare nel negozio di oggettistica carino fate buona l'acqua quindi poi dovete imparare bene il gioco mi raccomando perché i zombie sono stronzi attenzione perché sono stronzi però quando li fate secchi date sempre un'occhiata su cosa hanno addosso tante volte potete fare vai vedete i chiodi addosso cibo roba utile farmaci soprattutto per rimanere in vita poi tutte le cose abbiamo tolto ve l'abbiamo detto poi ragazzi inizialmente ricordatevi come ho detto ci sono potete farvi le casse quel chiodi le trovate potete prendervi un barile quello da marinaio la cassa marinaio potete costruirvi abbiamo eliminato le tende parti che le ho sempre odiate quelle tende parti da 100 mi pare che erano sono delle tende parti era strapieno il server le ho tolte tutte quelle ho lasciato le tende normali tende auto tutte le tende normali quelle militari anche però quelle parti le ho tolte è una cosa odiosa quindi potete costruire anche il vostro il vostro rifugio anche farvi una capannina dove dentro c'è lo slot c'è un botto di roba vi consiglio ovviamente di dare un'occhiata nelle app dedicate a days c'è tutto qua potete vedere ok io sono qui qualche domanda qualcuno che vuole entrare dire qualcosa nessuno ragazzi sono contento così vuol dire che mi va bene tutto che ho lavorato bene che ho fatto ho pensato bene un bel server allora non avete un dubbio non avete niente eliminati camion blu ed orange in dotazione commercianti quando sarai un commerciante avrai un camion blu o orange ovviamente il kit va in base anche a questi te li diamo soltanto dato che alla fine è un camion un mezzo sono eliminati sono per voi ma li dovete comprare a parte dall'attività capito voi comprate l'attività se volete anche il camion blu ed orange lo potete comprare solo voi dal meccanico ok li potrà vendere solo a chi ha le attività e quando vedete in giro un camion blu o d'orange cioè quando vedete un camion o è la cr con quello militare se è blu o d'orange è per forza di un commerciante non li potete rapinare queste cose qua cioè potete farlo se volete ma dopo avete dei problemi con la cr non si può nascondere niente sotto terra perché come la mettete sotto terra dopo appena vi allontanate i tre passi viene eliminato abbiamo sei giorni di giorno uno di notte ok questa ora a breve la aggiorniamo man mano a mano che arriva le attività mettiamo i canali radio abbiamo aggiornato già tutte le sessioni giorni di vita vedete acquisti e vendite vedi sopravvissuto può acquistare e vendere oggetti comuni se trovi un oggetto raro il sopravvissuto non me lo può vendere trovi un visore VR non me lo puoi vendere lo puoi tenere fino a che non sarà il momento contate tutta la gente le cose se le nasconderà in giro per la mappa ma non è che le nascondi sotto terra capito quello che ti dico devi nascondere in giro per la mappa quindi quando le trovate dici bello quel posticino cos'ha? no 500 chiodi vai prendi quell'altro bello ricordatevi un'altra cosa ovviamente se voi trovate un accampamento e siamo anche un giorno normale nell'accampamento voi state facendo un torto al proprietario di casa state attenti a queste cose perché il proprietario di casa non ti dico sparare subito ma viene lì e ti può far dire alza le mani e tutto normalmente anche lui però potremmo anche vedere un po' se ti vai intorno all'accampamento ti vede dentro la tenda ci può stare anche una seccata immediata se vuole però per ora manteniamo quel fatto che devi alzare le mani butta giù se lui fa qualcosa contro non lo puoi seccarlo per non fare cose subito strane che dopo magari hanno qualcosa a ridire vabbè dai mi sembra vi va bene tutto così se non avete altre domande vi va bene tutto così io torno a lavorare almeno ho due rette buone mi rimetto un po' sul server e vado a vedere tutto il resto che c'è da fare man mano che sarete inseriti sarete qua nella sezione membri queste ve le apriamo quindi abbiamo detto dal 28 26 oggi sì il 28 il 28 apriamo le whitelist poi il 26 27 domani finisco di fare un po' di cose perché prima di farvi entrare direttamente al server voglio preparare i cancelli che devo fare alla prigione ora mi manca l'ultimo test stasera e forse stasera già inizio a fare i cancelli lì però da domani vi dico già nel tardo pomeriggio sicuramente domani 17 30 19 30 saranno aperte le whitelist vi ho detto in fondo a questa live ve l'avrei detto quindi già da domani voi potreste essere trasferiti in carcere messi già nella prigione pronti per lunedì ci sono io stasera per i cancelli si potrebbero fare un bel lavoro a notturno Ettore bravo va bene dai facciamolo stasera allora dai ringraziate Ettore mi aiuta stasera mi dà una mano facciamo da mezzanotte in poi però che prima devo vedere una roba prima di riavviare ma poi taggiorando dopo semmai secondo voi manca qualcosa a proposito intanto Ettore puoi già aprire la sezione proposte server e la metterei tra sotto proposte server dove la mettiamo metti la dove vuoi te dai vedi un po' in questa sezione idee proposte e roba del genere se vuoi fare lì chat aperta a tutti quelli che hanno il ruolo dates lì metti la già per chi ha il ruolo dates non voglio che scrivano tutti chi ha il ruolo dates può scriverci ok a tre io vi ho parlato di tutto stasera credo che volevo vedere le chicche se mi ero segnato qualcosa da dirvi che qua mi sono segnato le cose da ultimare le vado a leggere vabbè la storia ne abbiamo parlato richiesta whitelist ne abbiamo parlato domani li apriamo dalle 17.30 alle 19.30 quindi già qua potremmo già andare a scriverlo ruolo attesa white se vabbè per ora scrivo così domani che giorno è venerdì venerdì 17.30 17.30 bar 20.30 si buona 19.30 io mangio anche posso posso inserire alcuni dai allora modifiche server ne abbiamo parlato regolamento parlato rango parlato centro risorse ok commercianti kit fazione ok quello che avranno chi ha il kit fazione daremo la bandiera la fascia della bandiera selezionata se prendi la bandiera cernarus avrai le fasce di cernarus bandiera dell'orso di radio zenith fasce radio zenith armi in base alla fazione quello che abbiamo già parlato se una fazione da libera da 2.5 avrai armi comuni se è una fazione dinamica avrai armi rare se è una trazione statica e quelle statiche per le posizioni avrai le armi rare veramente rare poi pacchi proiettili granate kit pulizia armi avrete anche ovviamente le armi caricatori e qualche chicca in più vedremo un po' dai fasce ovviamente quella roba poi vedremo altre cose temare qualche giubbotto antischeggi queste cose qui allora questo non si caschi blu caschi blu sono stati eliminati al server li ha in dotazione la cr come le hammer ce l'ha la cr il camion militare ce l'ha la cr gli altri due camion ce li hanno soltanto i commercianti ovviamente i camion e le hammer non le troverete soltanto i pezzi da vendere ma non troverete le auto e il camion quel tipo di auto e quel tipo di camion auto civili le troverete allora devo inserire quello che mi manca nel server devo mettere i messaggi nel server ovvero il benvenuto e quando si parla di orario ride verrà spammato e tutto idee e consigli cambia sezione e ti esce in alto vediamo idee e consigli eccolo qui aggiungere i canali ok l'ha messo qua chat dei zii idee e consigli va bene ci sta bravo attesa white list cos'è questo vabbè dopo vedrà lui allora quindi devo mettere i messaggi nel server questa è una buona cazzata facciamo 5 minuti ricontrollare gli oggetti type mi pare sono già a posto però un controllo ieri fa c'è roba di mezz'ora i prezzi delle munizioni ok i prezzi delle munizioni se comuni 10 al pezzo ok quindi 10 colpi 100 chiodi 10 colpi delle munizioni rare sono 20 chiodi cioè 200 chiodi 10 colpi delle munizioni sì 20 10 colpi delle munizioni veri rare sono 30 chiodi cioè 300 chiodi scusate 10 colpi comuni 100 10 colpi rari 200 10 colpi come dire 10 colpi il VSD li paghi 300 però quando dico il VSD vedi allora ah c'è questo obbligo ragazzi questo è importante ovviamente devi avere anche abbonamento più a sempre molti giocatori gioco acquistato giusto sì sì ombra PS multigiocatore il gioco compro in digitale ombra la miretta oh ti divertirai vedrai di più alla CR se vieni perché ti conosco poi vedrai se vuoi fare una fazione e tutte le varie cose oddio te Aaron Vani ci avete già se ho venito con tutto il gruppetto che eravate su GD mamma mia allora questo è un obbligo ragazzi non voglio sentire no no qui non chiudo occhio qui non ce la faccio non posso chiudere occhio obbligo dell'utilizzo del maschio se sei un maschio e dell'utilizzo della femmina se sei una femmina ok quindi se ti entri e mi parli da maschio quando devi scegliere il personaggio sei una donna ti dico no rifatti il personaggio devi avere il maschio Lady potrà avere la femmina che c'è tanta gente che piava la femmina perché era più strettina per evitare i colpi capito le mentalità un po' esagerate dei pvp del mondo del pvp però è una cosa che non l'ho mai sopportata e dato che il server è mio la decisione la prendo io se sei un maschio prendi il maschio se sei una femmina prendi la femmina ma volevo vendere la ps5 che vendi non vende ti entri anzi prima provi da me e poi mi dici se è il caso di venderla ancora allora più avanti ci sarà un dazio mensile per le attività sì questa è una cosa che vedremo più avanti noi si parte con un prezzo fisso inizialmente poi magari questa è una cosa che porteremo quando sposteremo su Frostline valuteremo se c'è tanta richiesta invece di fare un prezzo fisso un prezzo più basso però è mensile ogni mese per mantenere l'attività o mantenere la fazione dovrai pagare un tot di chiodi quindi la tua fazione cercherà chiodi anche per mantenersela e ovviamente ogni mese anche noi daremo qualcosa allora sì poi questo stasera cercheremo di hissare la bandiera di Vonia Police direttamente alla Coppa e tutti coloro che avranno un'attività avranno la bandiera di Livonia ok sarà una zona safe zone ci sono le bandiere quindi le vedrete quella di Livonia quella di Livonia Police e tutto basta queste sono le cose che mi mancano da fare nel server quindi raga il grosso è stato fatto ora tu ti ritocchini andare a vedere che dici quella cosa sì una piccola modifichina farei quindi tanta roba bella fase mi sto aspettando uno che mi porta 350 per la PS5 ma secondo me ti cosa vieni a fare poi se c'è la 4 puoi giocare anche con la 4 però dei zi raga mi dico giocando la sua 5 perché sulla 4 è un altro è diverso con le macchine vai a una certa velocità è un altro discorso vabbè ragazzi io direi che ditemi voi perché io se non avete altre domande nessuno vuole entrare per dire la sua quello che c'era da dire l'abbiamo detto se avete qualche dubbio domande qualcosa se no chi si riguarda la trasmissione se la riguarda ve la riguardate se avete qualcosa lo scrivete anche sotto tanto la caricheremo anche su youtube questa qua quindi se avete qualche dubbio o qualcosa ce lo potete dire anche di là aspetta un po' vediamo qui una roba vediamo un po' chi c'è dei miei amici intanto cerimonia rust wipe Roma da Mirox andate a trovare Mirox nel caso oh raga ditemi voi perché io credo aver fatto tutto no no a lui a lui non desì voglio farlo a lui oggi ok raga detto questo detto tutto ci becchiamo alla prossima qualche altra domanda ma noi possiamo fare il personaggio cosa vostra voi siete incarcerati valutate voi cosa dovete fare in carcere avete solo carcerati potete essere in carcere per questo o quell'altro avete ancora qualche momento per farle domande se volete volete che annulli il raid se avete qualcosa altro da dire fatemi sapere fatemi sapere qualcosa da dire prima che chiudo ultime domande veloci questo è Mirox è dove ero nel server da questo ragazzo bravo in gamba sa lavorare bene al pc questo ragazzo dai le domande più importanti mi credo me le avete fatte raga che dite? ma fammi pensare un'ultima cosa a dirvi un piccolo spoiler ve lo faccio ora sto pensando se dirvelo adesso dovrei parlare con Ettore prima di dirvi questa cosa no ma non importa la storia quella è una cosa vostra ve la pensate non dovete scriverla a nessuna porta raga io vi saluto vi mando tutti da Mirox un abbraccio e ci becchiamo nella prossima live ricordate da domani aprono le wise a Frank Maio tutto passo chiudo dopo stesse qualcuno sentivo dei passi mi deve far capire chi è il direttore qui io ooooh eccolo grande franco franco cazzo che vocivano non ho capito Don Lillì cazzo che vocivano tutti e tre siamo tutti tutti quanti tutti quanti ciao ragazzi benvenuti aspetta 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 il suo codice fisico scusate la voce eh raga scusate oh scrivi Don 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 Lillino e Don Francesco no è Don è Don Marco